Se vi facessi la domanda chi è il re del pop, la risposta sarebbe una sola, inequivocabile, il grande Michael Jackson. E oggi vi parlo di quello che secondo me è il suo degno erede, Bruno Mars. Ciao gioellini, benvenuti nuovamente nel mio mondo artistico. Michael Jackson è veramente il re del pop, del passato, del presente e del futuro, azzarderei. È un idolo, è la musa ispiratrice di molti artisti passati e presenti, emulato all'ennesima potenza. Alcuni cercano di copiare il look, dal guantino paillettato al cappello Los Mouth Criminal, altri cercano di copiare il suo stile coreografico, altri ancora si rifanno alle sue sempre attuali canzoni per fare dei loro arrangiamenti. Insomma si cerca in tutti i modi di emulare lo stile, la musica, l'arte di Michael Jackson. Tanti artisti, anche famosi, hanno preso spunto dalle sue grandi hit. Solo noi in Italia siamo riusciti a vincere una causa per plagio contro Michael Jackson. Il nostro vecchio e caro Albano ha avuto la meglio sul re del pop. Da non crederci vero? Albano che vince contro Michael Jackson. Ha dell'incredibile. Ci sono però alcuni artisti che riescono a prendere spunto da Michael Jackson, ad avere la giusta influenza da applicare su se stessi e sul loro modo di comunicare, come ad esempio Bruno Mars. Molti di voi sanno quali sono state le mie influenze musicali. Sono cresciuta con pane, nutella e l'immancabile Michael Jackson. Ho tutti i suoi cd e lo seguo dai tempi dei Jackson 5. Mi sono studiata le sue coreografie, ho tradotto i testi, ho guardato i film da lui prodotti, rigorosamente in lingua originale. Insomma sono una sua grande fan. Come nasconderlo? Sicuramente la sua musica ha contribuito a forgiare il mio stile artistico. Michael Jackson è stato ed è il re del pop. Un grande artista, sensibile, preparato vocalmente, autore, produttore dei suoi brani e non solo. Ma in questo video non voglio parlarvi della storia e della discografia di Michael Jackson, perché comunque è ben nota a tutto il mondo. Anche Bruno Mars, in piccola misura rispetto a quello del re del pop, ha iniziato la sua carriera artistica quando era piccolino, all'incirca sui tre anni. Cresciuto in una famiglia di artisti ha imparato immediatamente come stare su un palco, come muoversi, come cantare e come ballare. Vi basta sapere che il primo contratto che ha avuto per il suo primo album è stato con la casa discografica Motown. La stessa di Michael Jackson, segno del destino. Comunque il Bruno Mars che tutti conosciamo risale più o meno al 2010. Io personalmente l'ho apprezzato molto con la hit mondiale Haptown Funk, che ha aperto a Brunetto la strada per essere un king. È innegabile la somiglianza musicale e il modo di cantare con quello di Michael Jackson. Inoltre è anche un ottimo ballerino. Anche lo stile molto moderno è ricercato. È una delle caratteristiche migliori di Bruno Mars. Non so, ma notò anche una leggera somiglianza con il periodo più o meno di thriller, quando Michael Jackson stava passando dall'essere scuro ad una carna regione più chiara. La cosa però che mi sorprende piacevolmente è come Bruno Mars abbia riadattato al suo modo di essere tutte le caratteristiche che ha acquisito da Michael Jackson. Infatti, come dicevo, nonostante la sua somiglianza sia fisica che musicale, è riuscito comunque ad essere originale, a trasportare ai tempi di oggi quello che Michael Jackson aveva fatto al suo tempo. Come ad esempio nella danza. Non ci sono passi di Michael Jackson, o se ci sono li fa a modo suo. C'è una componente molto forte della ricerca di nuovi passi, di un nuovo stile, e Bruno Mars riesce a tirare fuori la sua identità artistica in maniera grintosa e originale. Essere erede di un grande artista non vuol dire essere il più bravo a copiare, ma fare delle influenze musicali di tutto quello che impari osservandolo e ascoltandolo, un proprio valore aggiunto da applicare e mettere nel proprio modo di essere e di fare musica. In conclusione, nomino Bruno Mars erede di Michael Jackson, anche se la corona rimarrà sulla testa di Michael. Siete d'accordo con me? Oppure vi vengono in mente altri cantanti aspiranti al ruolo? Non ditemi Timberlake perché si è auto incoronato erede e quindi si è escluso automaticamente. Scrivetemelo nei commenti e non scordate di iscrivervi al canale. Nel prossimo video rimarrò sempre in temi internazionali e vi parlerò di Jennifer Lopez. Quindi per non perdervelo cliccate sul tastino rosso iscriviti. Mi trovate su Facebook e su Instagram. Vi aspetto. E ricordate, l'importante è muoversi sempre. Michael Jackson è veramente il re del pop, del presente. Quindi per non perdervelo? Quindi per non perdervelo? No! È la musa aspiratrice? Aspiratrice? Uuuuuh!